Questa è una domanda da parte di Sorella G, che apre il suo cuore e racconta quello che lei sta vivendo adesso, confusione, domande su quale è la verità, perché comparando diverse scritture ci sono anche contraddizioni, dice lei. Ah sì? Ciao fratelli, volevo chiedervi una preghiera per me, perché sto attraversando un periodo difficile, in cui non riesco a studiare le cose di Gesù, non riesco a meditare, pensare, capire. Sento che la testa scoppia di tale confusione che mi tocca proprio abbandonare l'intento di voler fare. Sto cercando di capire qual è la volontà del Signore, ma non riesco a capire, e sono anche più confusa, perché intorno a me ho altri fratelli che credono sinceramente in Gesù e lo amano davvero, ma la loro fede è che il Signore non vuole che viviamo nella paura e nella preoccupazione di cosa succederà domani. E ci sono diverse scritture su questo. Per tale motivo dicono che dobbiamo preoccuparci per oggi e fare ciò che il Signore vuole da noi oggi. Se un domani il Signore ci chiamerà ad uscire dal paese, ce lo farà capire così chiaramente che dobbiamo partire, punto e basta. E anche qui ci sono esempi biblici. In sostanza, sono contrari al messaggio di prepararsi a quello che viene andando via e preparandosi un posto con le scorte alimentari. Poi ho una sorella che anche lei crede sinceramente in Gesù, ma siccome crede nel gran risveglio spirituale prima dell'ascesa dell'Anticristo, pensa che tutto quello che stiamo vedendo è una maledizione per i peccati che ha fatto l'Italia e che possiamo rompere la maledizione generazionale attraverso la preghiera. Io ho sintetizzato in due righe, anche in malo modo, quello che lei ha scritto in un lunghissimo studio biblico supportato tutto da scritture. Quello che non riesco a capire è perché ogni cristiano capisce una cosa diversa. Queste persone amano davvero il Signore come lo amo io. Lo cercano, pregano e si danno da fare nella loro missione. Ma se lo Spirito Santo è uno, perché le idee sono così diverse? Perché non abbiamo tutti le stesse rivelazioni o non la pensiamo allo stesso modo? È un periodo comunque non facile perché, come scrivevo prima, oltre ad essere attaccata nella testa al punto da non riuscire più a pensare e capire con la sensazione che la testa scoppia di confusione, ieri mi era venuta anche vera e proprio emicrania. So che tutti questi disturbi sono causati dal nemico e ovviamente non faccio altro che scacciarlo e proclamare la mia guarigione senza perdermi d'animo. Per il resto, fratelli, pregate per me affinché il Signore mi protegga dal male e mi dia il discernimento per capire sempre la verità. Dove c'è Dio non c'è confusione, non c'è buio. Il mio Dio è luce e dove c'è luce si vedono tutte le cose con chiarezza. Possa lo Spirito Santo posarsi su di me ed illuminare con la sua luce tutto quello che vedo intorno a me. Possa lo Spirito Santo rendermi un treno sia nello studio della parola di Dio che nella sua missione di rispondere ai fratelli. Amen. Grazie fratelli, Dio vi benedica. Grazie, grazie sorella dolce. Grazie. Sì, preghiamo per te. Abbiamo pregato e continuiamo a pregare che il Signore ti mostri nel tuo cuore la sua luce, la sua verità. E di avere la convinzione che viene da Dio. E Giuseppe, bella questa lettera, perché è molto sincera. Allora, ci sono credenti cristiani intorno a questa sorella che sono molto sinceri, amano il Signore davvero e si danno anche da fare per Gesù, ma citano delle scritture dove dice che non bisogna prepararsi, basta per ogni giorno il suo affanno. Pensiamo solo al giorno di oggi, domani il Signore si prenderà cura di noi. Ci sono scritture su questo? Guarda, ci sono scritture. Innanzitutto grazie dolce sorella. Ti voglio benedire che sei sempre stata così fedele a ritarci con le pecorelle. Sei una sorella molto molto preziosa. E Dio benedica la tua famiglia, la tua cara famiglia. Guarda, non è che uno deve prepararsi per far contento a me. Cioè uno deve pregare e vedere con la sua fede. Cioè, fratelli scrivete, mandateci commenti, diteci cosa pensate. Io so che sono stato criticato da un fratello che è andato in internet, l'ho già detto altre volte, a criticarmi dei miei parolacce, così, perché io gli ho detto, metti in garage un po' di diesel e anche ruotarlo, ruotarlo, ruotarlo che sia sempre fresco, che dura solo sei mesi, un anno, dura un diesel. E questo si è offeso a chi gli ho detto di tenersi il diesel. Per un po' di tempo mi ha fregato, mi ha fregato che mi mettevo da parte il diesel. Ma guarda, mica ti chiesti di mandarlo a me il diesel, scusa, è il tuo diesel. Se tu sai che in un mese consumi, che so, 50 litri di diesel, ok, quanti mesi lo metti da parte? Due, tre mesi, sei mesi? Metti da parte 50 al mese. Poi lo devi ruotare, certo, mettiti i guanti perché sono sporchi, certo. Però, sai, mantenere il fucile, ai militari ci insegnavano a tenere il fucile pulito, smontarlo, lì c'era un panno, si mettono le viti, tutte smontatevano. Il fucile era sempre efficiente, se, virgolette, scoppiava una guerra, virgolette, il fucile era pronto. Quindi dovete decidere voi se volete mettere da parte le cose, il cibo da mangiare. Oppure, dicendo, al momento quando scoppia la guerra, vado a cercarmila il metodo. Quando la casa si incendia, vado a preparare l'estintore. e quando scoppia il coronavirus, che tutto è entrato, non posso uscire più di casa, mi preparerò tutto. Non è così la storia. Gesù ha detto, in tutta la Bibbia, quando succedono o le prove di Dio, o gli attacchi del diavolo, sono sempre improvvisi. Gesù dice, non avrete tempo di andare a casa, prendervi la giacca, il mantello, la moglie, i bambini, ad abbandonare la moglie, abbandonare i figli, abbandonare la giacca. L'ha detto Gesù, dove? Matteo 24, 15 al 21. Quindi non è che vi mettete da parte il cibo, benedetti fratelli, per far contento frate Giuseppe. Ma frate Giuseppe, è qui, è un vostro servo, è qui per consigliarvi, darvi suggerimenti. Io ho mai obbligato qualcuno, ha detto, se non ti prepari, non fai parte della chiesa. Mi ha detto così. Ma se non volete prepararvi, benedetti, se vi sbagliate, digiunerete. E per il loro bene? E per il vostro bene, no? Io dico, uscendo dalle città, andate nelle campagne. Quanti fratelli oggi non avrebbero voluto trovarsi nelle campagne con un giardino, pomodori, cocomeri, le cipolle, l'aglio, le patate? Quanti fratelli non avrebbero voluto? Molti scrivono, sì. Siamo onesti. Cosa fate nelle città barbicate come lì, come le formiche in un formicaio? Se voi siete contenti nelle case, tranquilli. Guardi, c'è un articolo di giornale che ho letto l'altro giorno e diceva in... hanno trovato in una città, quale città? Che si è trovato l'acqua del... l'acqua dei rubinetti, non quella potabile, però c'è un altro tipo di acqua che era contaminata dal coronavirus. ma c'era un giornale. Io sono anni che dico un terrorista non è che gli costa così tanto buttare una bomba batteriologica nel lago dove Milano riceve l'acqua. E loro cosa fa a Milano? E buonanotte, pregare, pregare contro questi diavoletti. Pregare, però... non è che il soldato dice non mi metto l'elmetto in testa perché Dio mi protegge. A Parigi. A Parigi? A Parigi dice... L'hai trovato? Cosa dice? Brava, grazie. Sì, tanti articoli ci sono. Coronavirus in Francia. A Parigi, trecce del virus nell'acqua. Trecce del coronavirus nell'acqua. Ma questo è niente. Il coronavirus nell'acqua, non so, durerà e dopo qualche giorno muore. Però ci possono buttare una bomba batteriologica. Perché quello dura per sempre. Radioattiva. Cioè, la città muore. Vai a uscire da Milano 5 milioni di macchine. Poi chiedevi, dove vanno i 5 milioni? Vanno a Svizzera. Dove che vanno i 5 milioni? Cioè, è pazzesco. E loro io ho detto ognuno deve tenersi in casa almeno 100 o 150 litri, circa 100 o 150 litri a testa di acqua. E poi, così tanto. E poi vedrai. Se per caso non hai acqua per, diciamo, sciacquare i cessi. Non hai acqua da bere. Non hai acqua. Eh, caro mio. Va bene. Quindi, dipende da voi, fratelli. La parola dice, andiamo a Apocalisse 12,6. Apocalisse? Sì, Apocalisse 12,6. C'ho qui alcune scritture, ecco, se le leggete voi. Proverbi 22,3, Proverbi 14,16. Apocalisse 12,6. Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, per esservi nutrita per 1260 giorni. Avanti, Proverbi 22,3. Proverbi 22,3. Quindi, la donna fuggì nel deserto, fuggire, fuggì, è voce del verbo fuggire, cioè scappare, tagliare la corda, darsi la chetichella, imboscarsi. Cioè, attenzione come interpretiamo la Bibbia, che è la maniera che farisei interpretano la Bibbia, non è la stessa interpretazione che dava Gesù. Per i farisei, leggerli la Bibbia, tu sei un falso profeta, bisogna uccidere. Gesù lo leggevole, lo incontrava, dice, no, io sono il Messia. Cioè, tu di sabato fai questo. Anche i cristiani, atti capitolo 15, bisognava circoncidere. Perché? Perché Gesù si è fatto circoncidere. Sì, si è fatto circoncidere. Per noi, appunto, perché è stato circonciso, noi non abbiamo bisogno. Gesù si è fatto battezzare all'acqua, sì, ma per noi si è battezzato al nostro posto. perché dalla Pentecoste in poi è subentro lo Spirito Santo. Il battesimo diventa assolutamente indispensabile dopo la Pentecoste al posto dell'acqua. Poi, se tu vuoi l'acqua, nessun problema. Però non vuoi venire a infinocchiarmi che solamente tu puoi dare il mio battesimo all'acqua. L'acqua me lo puoi dare a qualunque fratello. Fermo restando che non è che vale molto, è come la circoncidio, non vale niente. Certo che puoi fare un bel simbolo, ma non ti dà niente, è un atto meccanico che può fare qualunque ipocrita. Invece il battesimo al Spirito Santo, Dio non te lo dà se il tuo cuore non hai diritto. Invece l'acqua, il tuo cuore può essere storto, acqua, non c'è problema. Va bene. Leggi con la scrittura. Proverbi 22 e 3. 22 e 3 e Proverbi 14 e 16. L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Quindi le conseguenze sono di ciascuno di noi che decide qual è il falso messaggio di Dio. Ve lo sto dando io. Qui un falso profeta c'è. O sono io o sono le chiese che dicono non preparate. Un falso profeta ci deve essere. Un falso profeta non vuol dire uno che cerca tutti i costi di imbrogliarti. Può essere tua madre, tuo padre, tuo pastore, può essere chiunque sinceramente ingannato. I pastori testi di Gio, dei mormoni, dei cattolici, evangelici, che sono uno contro l'altro, non è che sono, non è che stanno cercando di imbrogliarti, qualcuno sì, però la maggioranza no, sono ingannati a loro volta. I farisei che fecero il crucifiggio di Gesù loro secondo me erano ingannati. Giuda perché riportò i soldi nel Tempio e disse ho tradito un uomo innocente. Perché? Perché credeva che era giusto tradirlo. Capito? I falsi profeti non non sanno di essere ingannati. Vabbè? Quindi c'è un fratello che va in una chiesa che ti dice lì e ti dà mille scritture che dice Dio provvede, Dio è potente, guardate gli uomini, uccelli non seminano, guardate i fiori, non tessano, ogni giorno basta il suo affanno, dormi. Invece la scrittura dice sì c'è il momento di dormire, c'è il momento di confidare in Dio e fare niente, c'è il momento di dormire sotto l'albero la pera ti cascherà in mano facilmente, però c'è anche il momento di Apocrizio 12 6 la donna fugge nel deserto probabilmente 22-3 l'uomo accorto vede venire il male si nasconde Proverbio 14-16 saggio teme ed evita il male ma lo stolto è arrogante e presuntuoso gli ingegni tirano avanti e ne supiscono le conseguenze cosa vuol dire? vuol dire che se tu confidi in Dio quando invece Dio vuole che ti svegli ti alzi dal di dietro e smetti di scaldare la panca e vai e vai come dice in Primo Re 17 Primo Re 17 vuoi andare lì? sì ecco devi darmi 2-3 per cortesia Primo Re 17 2-3 la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini parti di qua va verso l'Oriente e nasconditi presso il torrente Cherid che è di fronte al Giordano 2-3 sì 2-3 ha letto sì quindi cosa dice Dio e Elia vai e nasconditi presso il torrente ma sai che tempo era questo? è il tempo che uccidevano Jezebel uccideva i profeti è come quando uccide i profeti tu ti vai a nascondere è come tu che puoi chiamare il fuoco dal cielo non confidi in Dio ma come scusa confida in Dio e vai dai profeti che vengono uccisi da Jezebel chiama il fuoco del cielo come ha fatto poi secondo Re capitolo 1 due volte ha chiamato il fuoco del cielo e ha bruciato 102 soldati no Dio dice vai a nascondere e quelli là che vengono uccisi vai a nasconderti ma qua vai a nasconderti quanti? 3 anni e mezzo si è nascosto 3 anni e mezzo quanto è evangelizzato? niente una vedova quanto è evangelizzato? è predicato nelle chiese nelle sinagoge niente una vedova quindi non si può usare la Bibbia vanvera capisci? c'è il momento di proclamare sui tetti c'è il momento di non dire a nessuno che lui è Cristo però se poi tu non lo dici nel momento giusto diventi un Pietro che rinnega Gesù quindi qual è la risposta? la risposta è Ecclesiaste 3 c'è tempo per amare tempo per odiare tempo per salvare tempo per uccidere tempo per accogliere tempo per spargere eccetera c'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo non è sempre il tempo dammi il martello ti da cacciavite perché mi da cacciavite? ieri mi hai chiesto cacciavite perché vuoi il martello ma ti dice Falegnami sto martello quasi quasi lo uso sul tuo almetto dammi il martello e io invece ti do la sega la sega elettrica ma come settimana scorsa mi hai chiesto la sega elettrica e tu cambia ogni giorno? capito? non si non puoi usare senza scrittura c'è il momento che Gesù è per l'unità così dice primo corincio che siate tutti uno uniti che parlate la stessa lingua giusto? sì e poi arriva Gesù in Mattio 10 34 io non porto la pace porto la spada torna avanti una famiglia sarà divisa la madre contro la figlia la nuora contro la soggia botte da orvi ma come siamo schizofrenici? e come sta la differenza? Spirito Santo ti metti in ginocchio va da Gesù come fai a sapere che Geremia era il profeta di Dio che diceva a Babilonia se Dio è potente sì sì è potente ma Babilonia viene e vi distrugge arrivano una squadrona di 500 falsi profeti e dicono no no Dio è potente ci ama sì Dio vi ama ma vi distrugge ma come fa a sapere che un profeta Geremia ha ragione e gli altri 500 o 5000 sono tutti falsi? Geremia 29 13 cosa dice? a memoria se mi cerchi con tutto il cuore mi troverai dice il Signore capito? ti metti in ginocchio e dici qual è il falso profeta il fratello Giuseppe o altri? questa è una domanda che solo Gesù ti può rispondere frate Giuseppe non ti può dire che lui è vero il vero qui vero là te lo deve dire Dio dimmi ma non credi che anche loro hanno ragione quando dicono non dobbiamo vivere nella paura nella preoccupazione dobbiamo confidare di più in Dio è vero anche quello c'è il tempo per quello sempre confidare sempre credere ma a volte devi farlo mentre attacchi e a volte devi farlo mentre scapi capito? ci sono anche le ritrate strategiche Giovanni 8 59 scusi parentesi Giovanni 8 59 Giovanni 8 59 allora essi presero delle pietre per tirargliele ma Gesù si nascose e uscì dal tempio Gesù si nasconde non ha fede Gesù scappa un vigliacco ma per cortesia non diciamo cretinate c'è il tempo che Gesù si nascondeva e lo ripete due o tre volte nei Vangeli va bene c'è il tempo per nascondersi perché è volontà di Dio perché non è il momento del calvario è il momento di predicare non è il momento di essere martirizzato cosa diceva Giulio Cese il primo a morire in una battaglia non è un eroe è un imbecille va bene quando Rimone diceva i cavalieri con le lanci tirano le lanci se tu muori quando ti tirano le lanci che tirano le lanci scappano tirano le lanci scappano tirano le frecce e tu sei lì come un bambolato come una salsiccia ricevono le frecce e le lanci Giulio Cese diceva se tu muori in quel tempo non sei un eroe sei un imbecille perché Roma ha bisogno di soldati che vincono non di eroi che muoiono c'è il momento della medaglia c'è il momento di andare al cimitero e portare la medaglia d'accordo ma dice Giulio Cese la medaglia è meglio che la portano loro ai loro eroi e voi combattete e vincete ci siamo? sì ameno e quando dice in Matteo 6 non preoccupatevi per il domani basta la fanno di oggi credo che è giusto e si applica quando ti trovi nella volontà di Dio quando sei ubbidiente al Signore hai fatto quello che Dio si aspetta da te non devi più preoccuparti il resto è nelle mani di Dio tu confidi in Dio quindi se il Signore ti dice preparati perché la donna fugge nel deserto nel tempo della fine siate preparati se tu ubbidisci e hai fatto la tua parte puoi non avere più paura confida in Dio però se non ubbidisci se sei disubbidiente a quello che Dio ti dice fai bene a preoccuparti e a cambiare anche amén amén gloria a Dio secondo cronaca 32 2 a 5 secondo cronaca 32 20 a 21 io ho pregato questa scrittura che il Signore mi ha dato secondo cronaca 32 2 a 5 grazie quando Ezechia vide che Sennacherib era giunto e si proponeva di attaccare Gerusalemme deliberò con i suoi capi e con i suoi uomini valorosi di turare le sorgenti d'acqua che erano fuori dalla città Sennacherib il re della Siria che veniva a distruggere Gerusalemme ed essi gli prestarono aiuto si radunò dunque un gran numero di gente e turarono tutte le sorgenti e il torrente che scorreva attraverso il paese perché dicevano essi perché il re da Siria venendo dovrebbero trovare abbondanza d'acqua Ezechia prese coraggio Ezechia il re di Israele che si difendeva dalla Siria Ezechia prese coraggio e ricostruì tutte le mura dove erano dirocate rialzò le torri costruì l'altro muro di fuori fortificò Milo nella città di Davide e fece fare una gran quantità d'armi e di scudi ma questo non ha fede in Dio allora questo non confida in Dio scusa Ezechia non potete guardare i fiori che non tessano scusa Ezechia gli è sfuggito gli uccelli gli uccelli non seminano non raccolgono i granai e ha detto Gesù Matteo 6 oi voi cosa state lì a preoccuparvi guardate gli uccelli perché Ezechia non ha guardato le acque le acque che volavano viene viene Sennè con tutta la Siria che lo voleva fare polpette e Ezechia dice io guardo i fiori e gli uccelli fra poco diventerai un fiore va bene secondo cronaca 32 20 21 secondo cronaca 32 20 21 allora il re Ezechia e il profetto Isaia figlio di Amos pregarono a questo proposito e alzarono fino al cielo il loro grido il Signore mandò un angelo che sterminò nell'accampamento del re da Siria tutti gli uomini forti e valorosi i principi e i capi il re se ne tornò svergognato al suo paese come fu entrato nella casa del suo dio i suoi propri figli lo uccisero là con la spada secondo cronaca 32 20 e 21 quindi cosa fa il profeta Isaia e Ezechia pregano Dio però cosa faceva Neemia con una mano costruiva Gerusalemme pregava Dio con l'altra la spada pronta a sbattagliare in testa Sambalat e Tobia capito va bene pregare Dio è certo che devi pregare Dio cioè suona così bene il diavolo viene e dice prego 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 rosario contro rosario doppio rosario triplo rosario con il cappuccino rosario a pranzo rosario a cena e cosa fai con questo invece se vuoi pregare rosario pregalo tanto non serve niente ma mentre dati da fare prepara cos'è che hai preparato ha detto le mura dice ricostruire le mura ce l'hai? si dove diroccate rialzò le torri costruire l'altro muro di fuori fortificò millo nella città di Davide fece fare una grande quantità di armi di scudi frate Giuseppe stai scherzando io guardo i fiori e gli uccelli invece ma stai attento che diventi tu un uccello ma come scusa sta arrivando sta arrivando la Siria e tu stai lì col telecomando e guarda e ascolta la Lily Gruber è diventato un proverbio quella di cosa stai lì a ascoltare a guardare la Lagarde che è la Lagarde la capa del fondo monetario che adesso è la presidente delle banche sanguisughe europee cioè 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 no cioè lo dico io cioè chi dice cioè io non so mica di carico mica puoi discutere con le sorelle allora verso 2 e 5 si preparano fanno la loro parte verso 20 e 21 il signore interviene e li protegge cioè certo che pregano ma logico Isaia questo è il profeta Isaia questo qua è uno di un profeta con la P maiuscola d'accordo capito era lì sicuramente era lì e benediva anche Ezechia che stava costruendo che gli ha detto cosa fai tu a preparare le arche le frecce butta via tutto guarda San Francesco a piedi scalzi in giro San Francesco si vedeva farlo io no perché io mi prendo la freddore non so neanche se lo faceva lui comunque va bene quindi attenzione alla Bibbia si può interpretare alla testimonia di Geovese alla mormonese alla pentacostalese alla cattolicese alla battistese alla presbietarianese va bene io per grazie a Dio spero mi auguro che non sto interpretando troppo qua spero che dico spero ragazzi correggetemi sto cercando di dire pane al pane e sono delle scritture che sta citando va bene nell'Apocalisse gli dice due volte l'Apocalisse 12 6,14 dice la donna fugge la donna scappa va nel deserto tre anni e mezzo il diavolo la rincorre la fiumana gli manda dietro e sono i fessacchiotti del mondo che se la tracannano loro prendono il marchio e la terra aiutò la donna e beve l'acqua contaminata del cesso l'Apocalisse 12 traduzione libera capito? è una versione buona questa qua capito? ma dice così però il diavolo beve tutta la fiumana l'Apocalisse 12 e la fiumana non riesce a prendere la donna perché? ma se la donna se ne sta lì ti raccomando in mano a guardare la televisioncina la sera cosa dicono le signorine buonasera caro mio non è così che vinci il diavolo hai mai sentito una televisione ha vinto il diavolo? e cosa stiamo imbambolati come Citrulli a guardare ogni sera? per cortesia se guardate la televisione che sia un film cristiano le notizie guardatele c'è qualcosa molto interessante ma non credete neanche a una mezza virgola d'accordo? bene allora questo qui guarda andiamo da Faraone esodo 9 andiamo da Faraone 9 20 e 21 esodo 9 20 e 21 qui abbiamo un altro esempio preparassi sì preparassi no tra i servitori del Faraone quelli che temettero la parola del Signore fecero rifugiare nelle case i loro servi e i loro bestiame ma quelli che non tennero conto della parola del Signore lasciarono i loro servi e i loro bestiame nei campi hai capito? quindi c'è i servitori del Faraone alcuni temettero la parola del Signore e si rifugiarono nelle case i loro servi invece quegli altri dicono ma no ma guarda scusa guarda 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 gli uccelli del cielo ma stiamo scherzando guarda i fiori dei campi ma figurate non è il caso salta al 25 la grandine percosse in tutto il paese d'Egitto tutto quello che era nei campi uomini e bestie la grandine percosse ogni erba dei campi e fracassò ogni albero della campagna hai capito? 26 26 e 27 solamente nella terra di Goshen dove erano i figli di Israele non cadde grandine allora il Faraone mandò a chiamare Mosè e Aronne e disse loro questa volta io ho peccato il Signore è giusto mentre io e il mio popolo siamo colpevoli capito? cioè la terra di Goshen dove stanno gli ebrei sarebbe come dire oggi dove è oggi la terra di Goshen? è nella volontà di Dio nella parola di Dio la donna fugge nel deserto lì si viene rifugiata è la nuova terra di Goshen questo è il nuovo sangue sugli stipiti della porta che l'angelo della morte non entra a uccidere oggi cos'è oggi il sangue? il sangue oggi è la comunione ovviamente ma è anche l'ubbidienza ubbidire la parola di Dio sapere leggere la Bibbia ma interpretarla è sufficiente che la capiamo tutta no bisogna ubbidirla per se no quando viene l'angelo dieci piaghe in Egitto ti cascano sulla testa il popolo di Dio è specializzato a mormorare sono lì davanti al Mar Rosso dice ci hai portati qui per fare morire era così buono l'aglio la cipolla il rosmarino il basilico la spaghettina con la comarola in coppa in Egitto e Mosè gli dice branco di capre traduzione libera dice ma volete chiudere il la bocca la sara cinesca state fermi e vedete cosa fa il Signore prese il bastone e misericordioso Mosè non è che gli aveva sulla testa ha toccato l'acqua e allora il mare cosa ha fatto si è aperto e si aprirà il mare per noi nella tribolazione il Signore avrà rifugio però dobbiamo leggere la Bibbia non come l'interpretano i farisei io ho le chiese ognuno oggi prende mille chiese cristiane anche della stessa denominazione e sono mille interpretazioni diverse d'accordo una cosa che hai menzionato ieri mentre parlavamo di questo soggetto ha detto che anche Giuseppe in Egitto si è preparato anche se possiamo dire che Giuseppe confidava in Dio con tutto il cuore perché considerando tutti i guai che ha passato con la moglie di Potifar nella prigione con i suoi fratelli che lo hanno tradito quindi lui veramente aveva una fede confidava in Dio è rimasto fedele però quando è venuto il momento delle difficoltà finanziarie lui si è preparato sette anni in anticipo preparazione non solo confidare ma fare la tua parte perché Giuseppe perché Giuseppe ha messo tutti quanti sotto torchio per sette anni voi andate a mietere il grano va bene e il 20% lo date date il 20% al faraone dice ok d'accordo è meglio del 70% che l'equitalia ci chiede va bene tutti contenti e perché per sette anni sette anni perché 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 non confidava e Giuseppe guarda è uno dei più grandi uno dei più grandissimi uomini della Bibbia figlio di Giacobbe va bene e perché perché non ha confidato in Dio eccetera ma Dio mica si confida si confida in Dio mentre di gratilo la pancia seduta su una panca di una chiesa addormentata ascoltare l'interpretazione di una pulpito con la raccogliere offerte predicano le cose che stuzzicano le orecchie perché se non le stuzzica i soldi non vengono che brutto mestiere fare raccoglitori di soldi nelle chiese ragazzi è meglio confidare in Dio io io confido in Dio se se i soldi crescono da soli bene però non mi piace andare a minacciare chissà cosa no va bene quindi confidare in Dio non significa Dio fa tutto tu non devi fare niente no confidare in Dio anche tu fa la tua parte tu devi fare la tua parte dimmi un motivo perché Giuseppe si è preparato perché era fedele era obbediente e era saggio ma sette anni io non sto neanche dicendo preparate per sette anni io dico fate autostop all'aeroporto saltate su prima aerea in partenza partite certo abbiate quattro quattro spiccioli in tasca per sopravvivere due o tre mesi dove arrivate e se possibile di più ma io devo vendermi la casa magari la venderai dopo il marchio della bestia che ne sai quando vendi sta casa vai avvocato vai in centro immobiliare e dice senti vendimi sta casa quant'è la tua commissione pronto qua arrivederci ti manderò una cartolina e soldi me li metti in banca a posto e partite cosa stai a rispettare il mutuo e il mutuo vendilo con tutto il mutuo vendilo con il mutuo va bene se tu hai pagato mezza mutua se c'è una casa dalla mutua si dice tu prendi vendi la casa che vale dieci hai pagato cinque quel tipo ti dà cinque a te e cinque si paga il mutuo è a posto c'è sempre la via se poi volete rimanere lì a vedere con il telecomando in mano a godervi la televisione eccetera fate pure se vi piace stare sedevi in una chiesa la domenica dove tutti sono lì e grattarsi lo stomaco scaldare panca contenti voi contenti tutti però non ci lamentiamo dopo uuuuuh sai leggere leggere attentamente proverbi capitolo 1 gente che non ha voluto ascoltare e quando lo leggete vi si rizzeranno i capelli che dice lo spirito santo dice quando queste disgrazie vi cascheranno addosso e allora io mi riderò di voi dice e vi dirò siccome non avete voluto ascoltare adesso io mi rido di voi il signore riderà dalle persone che non hanno voluto ascoltare terribile terribili parole ma è nella Bibbia è andato alla leggere è una cosa seria che i vostri figli i vostri familiari i vostri i membri della chiesa che col vostro brutto esempio state tenendo lì che vanno a scuola a imparare i gender ma solamente per quello io mi andrei dall'Europa solamente che infangare il cuore dei miei figli con i gender sarebbe sufficiente non servirebbe marchio della bestia anticristo niente certo che se tu esci dall'Italia vai in un posto al terzo mondo vuoi andare magari con qualche compagno di chiesa e te lo porti là e questo comincia a lamentarsi tutti i giorni mi mancano mi mancano le cipolle dell'Egitto mi manca l'aglio il porro così dicevo nel deserto in Egitto io mangiavo aglio porro cipolle anche carne e tu Mosè ci hai portato il deserto capito perché sono arrivate anche delle persone nel terzo mondo sono state e ci sono arrivate con una valigia piena di lamentele ma quanto si guadagna qua quando com'è quanto sia ok diciamo così va volevo aggiungere una cosa che mi ha parlato molto nel cuore Apocalisse 12 16 che dice la donna fuggina al deserto dove è nutrita è una donna incinta quella lì la donna fuggina al deserto dove è nutrita cioè il Signore lo protegge lo prepara perché prima dicevamo di discernere quando è il momento di confidare in Dio guardare gli uccelli e quando è il momento di prepararci allora sappiamo che siamo nei ultimi tempi sappiamo che viene l'anticristo sappiamo che è il momento della donna di fuggire nel deserto dove il Signore la protegge allora è ovvio it's obviously ovvio è ovvio è ovvio che adesso è il momento della preparazione perché siamo nel tempo della fine siamo nel tempo della donna quando deve fuggire nel deserto dove il Signore la nutrirà e la proteggerà allora è stato come un click Apocalisse 12 16 perché ok vado in ginocchio devo discernere ma è il momento di prepararsi adesso o no è il momento di confidare in Dio o no ma certo che è il momento di prepararsi adesso perché siamo alla vigilia dell'anticristo del tempo della fine certo che devi confidare in Dio ma ciò non vuol dire che devi dormire sulle panche da chiesa però confidi in Dio e se tu ti prepari il tuo confidare in Dio ti aiuterà a essere nutrito certo al Signore provvedere per te perché tu ti hai preparato certo perché c'è qualcuno che pensa che quando vedo l'abominazione della desolazione allora io scappo no fessacchiotto perché non potrai andare a casa a prendere la giacca la moglie i figli il passaporto i quattro soldi sotto il materasso vai in banca no la banca ti dà i soldi fra tre giorni e poi non te li dà neanche stai scherzando sai che oggi ritiri i soldi dalla banca posso anche non darteli capito infatti i quattro soldi che abbiamo e noi li tiriamo sempre fuori non è che ci vogliono tirare fuori comunque quello che c'è quindi chi ha soldi chi ancora ha soldi in banca Dio vi benedica se li avete tirateli fuori che non ve li danno a parte il fatto che svalutano la cosa più furibre che potete fare è investire nel posto di arrivo dove volete andare su una montagna una collina vicino a un bosco il terzo mondo io suggerisco fuori dall'Europa perché le mani durante Cristo sono lunghe in Europa e andate là investite là se è contadino investe un trattore se è cos'è che sei vuoi andare in giro a vendere uova perché anche noi qua c'è stato un tempo senza soldi vendevamo uova latte mia moglie faceva formaggio andavo in giro con la macchina a venderlo grazie Gesù allora grazie Signore dimmi Angelo posso leggerti alcuni commenti c'è Angelo che manda segnale di fumo lei è un'indiana con i fiocchi siamo dei commenti dei fratelli è lì con la coperta che fa segnale Angela prendi grazie prendi le microfoni come si dice francese le microfoni francese così mi dicevano allora vai allora diamo il microfono ai fratelli che stanno scrivendo commenti su questo argomento adesso che stiamo discutendo scrivete fratelli scrivete che Angelo riceve tutto allora c'è Filippo che ha scritto pochi minuti fa dicendo ciao a tutti cari fratelli ciao Filippo anche a me ogni tanto vengono attacchi di svenimento ma non sono mai svenuto veramente grazie a Dio e di confusione mentale ma scaccio il diavolo nel nome di Gesù e dico Gesù aiutami tu adesso ho imparato di mettere veramente il diavolo sotto i miei piedi siamo con te fratello nel nome di Gesù e sì è meglio essere in campagna o in montagna in questi periodi ve lo testimonio perché sono in montagna lontano dalle città e con l'orto si sta bene rispetto alle città che è un caos ed è difficile procurarsi anche il cibo e se vai in oreo sbagliato ti arrestano per strada se ti fai mandare come cantava Gianni se ti fai mandare dalla mamma a comprare il latte attento che ti arrestano se ci hanno sbagliato grazie Filippo poi c'è un altro commento da parte di Bruno io pure sono in lotta con mia madre mio padre mia sorella mia moglie miei figli sono come il pellegrinaggio del cristiano prima parte questa è la scrittura che hai dato prima lei ce l'ha Matteo 10 34 al 38 Matteo non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra non sono venuto a mettere pace ma spada perché sono venuto a dividere il figlio dal suo padre la figlia da sua madre la nuora dalla suocera e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua chi ama padre o madre più di me non è degno di me e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me quindi sto predicando contro il rispetto dei genitori no e neanche Gesù io ho sei figli ti pare che predico contro i genitori così però c'è il tempo quando ci sono situazioni quando la moglie di Lot voleva guardare Sodoma e Dot Lot non si è fermato per lei è andata avanti e l'ha lasciata indietro c'è anche quel tempo cioè quando quando ti capita che noi riceviamo qui un sacco di email è una situazione molto triste molto triste ragazzi e una volta mi scrivo cosa faccio un marito così una moglie così posso andarmene posso lasciarlo lasciarlo e dico no il cristiano non lascia mai la famiglia prosegue con Gesù semmai la famiglia lascia lui io vado a evangelizzare io vado Gesù mi guida andare a cercare un bel posto in terzo mondo vi aspetto capito e il cristiano Gesù non è che ha abbandonato la sua famiglia e loro hanno abbandonato lui leggelo Matteo Matteo 10 46 46 in avanti no non devi leggere dico leggetelo quando volete sì c'hai altro sì sì da parte di Marius anche lui ha scritto cinque minuti fa dice sorella G te lo confesso che anche io sono confuso periodicamente in special modo adesso che siamo in quarantena per via del coronavirus che non puoi uscire di casa non puoi andare da prendere un aereo e così via tante altre cose limitate e sono chiuso dentro casa da più di due mesi e io che il mio lavoro da tutta la vita era nella natura ma non mi abbatto che il mio Signore Gesù è nel mio cuore e quando mi sento abbattuto o sbaglio il Signore si fa sentire in questo modo quando sbaglio il mio petto è sotto pressione da questo so che ho sbagliato invece quando sono nella sua volontà il mio cuore batte forte quindi cara sorella non fare niente senza chiedere a Gesù e allora sparirà all'istante ogni sentimento negativo per quanto riguarda l'approvisionamento di cibo acqua ascolta i consigli del nostro amato fratello Giuseppe perché è nel giusto a sostenere questo la quarantena del coronavirus è un ottimo esempio una piccola finestra dell'arrivo dell'anticristo Chiesa dello Spirito vi amo Dio vi benedica Marius grazie Mario ti benedica comunque ribadisco dipende da voi non è mica una regola non è necessario per la salvezza di prepararsi no siete salvi lo stesso anzi andate in paradiso prima dipende da voi fratelli io vi do suggerimenti e credo che sono anche sostenuti dalla parola altre chiese dicono invece no decidete voi vedi a che parte sta lo Spirito Santo il Spirito Santo non è schizofrenico non può interpretare così e cosa tra l'altro tutte queste tantissime scritture che ti han dato me le vuoi mandare magari se non tutte perché qui il tempo è limitato mi puoi mandare almeno 4, 5, 6 scritture le principali per cortesia mi fai una grande cortesia dolcissima sorella grande grande così che so di cose che stanno parlando questo cos'è che così vediamo soppesiamo perché c'è sempre interpretare le scritture con altre scritture andiamo guarda un messaggio da parte di Emma Emma che ha scritto riguardo a questo soggetto dice pace fratelli grazie ai suggerimenti Diti benedica Emma grazie ai suggerimenti del fratello Giuseppe prima di scoppiare la quarantena mi sono svegliata una mattina con una voce che diceva dentro di me vai a fare la scorta di cibo ho avvisato anche i miei figli e la stessa sera il presidente del consiglio ha annunciato la quarantena così ho capito ecco era la voce di Dio mia figlia era andata in un centro dove comprano i rivenditori pensavo meglio così così non ci prendono per pazzi in questi piccoli negozi vedendo che facciamo tutta questa spesa ma con grande stupore molti scaffali erano vuoti addirittura un mese prima mancava la carta igienica la gente si era preparata anche quelli che non seguono il fratello Giuseppe ma anche la Bibbia dice che i figli di questo secolo sono avveduti in Luca 16 non dovrei esserlo io sì non dovremmo esserlo noi un abbraccio da Emma Dio vi benedica grazie signore signore provvedi signore ai tuoi figli quelli che hanno bisogno ascoltate ascoltate che è lo spirito che parla a questi fratelli incredibile già un mese prima la gente del mondo aveva capito l'antifona e qui ci sono i cristiani che vanno in chiesa a questi falsi profeti che gli dicono no dormi dormi mi trovi quella canzone di Povia che dice fate la nanna sì 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 per cortesia perché qui è applicabile a certe chiese sì ci vedo ancora un messaggio insomma ragazzi quindi mettete vincinocchia scoprite se è Geremia che dice la verità un uomo a Gerusalemme o 500 o 5.000 profeti che dicono bugie va bene ricordate che la Bibbia si può interpretare al testimone di Geova al mormone al in un modo papale al protestante la Bibbia le interpreti come ti pare un avvocato prende la costituzione italiana va in tribunale e ti gira tutto l'incontrario secondo la costituzione questo qua si merita l'ergastolo arriva l'altro avvocato e dice secondo la costituzione solo merita lei il signor avvocato e tu sai questo è il signor che ha studiato da 20 anni per come infinocchiare ad essere sinistra va bene grazie a Dio qualche avvocato onesto sincero che è onesto noi che sono tanti andiamo per cortesia è un messaggio dalla sorella G ha scritto adesso ha scritto 10 minuti fa aspetta che la benediciamo Dio ti benedica sorellina che vogliamo tanto bene e la tua famiglia gloria a Dio preghiamo per te è la vostra scelta la vostra decisione io ne sono obbligato a grazie pregate fratello dice ciao fratelli vi sto ascoltando e vorrei dirvi che so che devo vendere casa e lo faremo appena tutto riparte ah che dolce quello che devo capire ora è dove andare eh io questo non te lo posso dire comunque la domanda che ho come mai ogni fratello ha una rivelazione diversa perché poi ogni pensiero idea rivelazione comporta un'azione diversa per il resto va decisamente meglio grazie fratelli per le vostre preghiere perché ho sentito l'effetto grazie ancora fratelli un abbraccio grazie Gesù bene io voglio dire questo a sorella non è vero che ogni fratello ha una rivelazione diversa forse ogni chiesa ci sono diverse chiese hanno diverse rivelazioni ma nella nostra della nostra fratellanza non è così infatti se tu vedi nella pagina la gli dici fratelli che vogliono unire la nostra missione che vogliono far parte della nostra fratellanza certo che noi tutto gratis a tutto testo di Geo mormone tutti possono scaricare tutto basta che sei credente anche non credente tutto gratis però se vuoi far parte della nostra missione trasportare questa croce ci sono tante croce noi abbiamo una croce se vuoi aiutarci a portare questa croce c'è una fratellanza e ci sono tre punti una è unità l'altra è sostenere aiutare fedelmente e l'altra è evangelizzare evangelizzare non credo che sono tanti quindi quindi diciamo non è vero che nella nostra comunità ci sono ognuna e tre in modo diverso la nostra comunità gloria mi trovo nella scrittura primo corinzi uno dieci per cortesia la nostra comunità vi assicuriamo nella nostra missione almeno che qui ogni fratello non interpreta il modo suo tutti interpretano secondo le scritture secondo lo spirito santo perché ci vuole unità dottrinale noi tanti anni che ci conoscete noi fateci sapere se abbiamo cambiato le dottrine tutto un tratto diciamo apriamo le porte alle perversioni sessuali o adesso come fanno ad esempio la chiesa valdese correggete se non mi sbaglio allora c'è tra gli omosessuali va bene noi li rispettiamo li amiamo come persone ma come diciamo ideologia no va bene primo corinzi uno dieci ora fratelli vi esorto nel nome del Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni tra di voi ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire ecco continua fino al 13 infatti fratelli miei mi è stato riferito da quelli da casa di Chloe che tra di voi ci sono contese voglio dire che ciascuno di voi dichiara io sono di Paolo cioè cattolico io sono d'Apollo cioè supponiamo per esempio protestante o evangelico io di Cefa eh testo di Gia mormone faccio solo gli esempi buttati lì e io di Cristo grazie a Dio Cristo è forse diviso Paolo è stato forse crucifisso per voi o siete state battezzati nel nome di Paolo primo corinzi 1 10 a 13 questo qui succede oggi c'è il protestante evangelico cattolico Geova cioè qui sono dottrine diverse però se tu vai a analizzare infatti abbiamo avuto un dibattito con gli amici della chiesa mormone un po' di tempo fa se vai a analizzare cioè loro questi dolci amici mormoni non mi hanno dato neanche la scrittura ma è quella la domanda della sorella G chiede perché se tutti amano il Signore e lei conosce cristiani anche noi siamo stati nelle chiese Giuseppe abbiamo incontrato cristiani dolci dolcissimi sinceri veramente veramente amano Dio tanto di cappello tanto come noi però hanno idee diverse rivelazioni diverse usano scritture diverse una fede diversa e la sorella dice ma perché perché sei lo stesso Spirito Santo perché non riceviamo le stesse rivelazioni perché 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 dipende cioè la parola è una ma le zucche quadrate sono diverse e ti ricordi siamo stati in quella chiesa e c'eravate anche voi se non mi sbaglio che ho predicato sulla pimenta dopo la tribolazione e alla fine il pastore ha preso un microfono e ha detto come è che diceva parola di la pura parola di Dio pura parola di Dio però rimango dalla mia opinione rapimento prima della tribolazione cioè puoi portare dicono in inglese un cavallo a bere non puoi obbligarlo a bere non c'è niente da fare anche se sono dolci e sinceri però è incredibile cioè se uno ha dato il suo cuore cioè devi decidere se accetti la verità di Gesù e basta basata sulla Bibbia e basta o se accetti la verità di Gesù basata su una chiesa non è la stessa cosa sembra lo stesso se tu mi vesti Gesù da cattolico con tutto il cappuccio in testa il mantello colorato poi mi vesti Gesù da protestante con la cravatta poi mi vesti a testimonio di Gesù gli fanno con i cappelli corti Gesù non gli piace i cappelli lunghi ha visto mai ci hanno ridicolo Gesù sbarbato cioè molto carnale umano sbagliano questi qui in quei tempi Gesù i cappelli aveva lunghi come Nazareni quindi sono fuori benare anche di lì cioè come dicevo gli due avvocati si lottano in tribunale nel nome della stessa costituzione della stessa legge degli stessi indizi per un innocente volante colpevole perché perché c'è il combattimento tra Dio e il diavolo il bene e il male la verità la bugia fratelli dovete scoprire chi è il falso profeta qua dovete scoprirlo digiunate pregate dice mi hanno dato una valanga di scritture me ne mandi una decina per cortesia di questa valanga dolce sorella ti prego umilmente mandami una decina di scritture sono super curiosissimo di sapere quali sono questa valanga va bene le più importanti Angelina ma visto che anche durante nei tempi di Paolo c'erano queste divisioni e contese io sono di Paolo perché c'era lo stesso diavolo e come possiamo avere un rimedio qual è la nostra speranza che nei nostri giorni sarà più unità tra i cristiani D come disperazione G come Getsemani va bene C come CP cuore pieno va bene se tu hai dato il tuo cuore a una chiesa non l'hai data a Gesù è una chiesa cristiana si è cristiana ma sta facendo culto di personalità hanno il loro papa il papa protestante il papa evangelico si chiamano pastori culto di personalità io c'ho un pastore infatti a volte quando mi fanno un sacco di complimenti che siamo a Tavoli frate Giuseppe noi ci mettiamo a ridere sapessero che sono un uomo come loro e peggio di loro vero o no? si si e alcuni neanche leggiamo in diretta perché è troppo è troppo certe cose sono troppo troppo e allora capito? si si quando mangiamo insieme diciamo eh ragazzi ma qui se loro sapessero frate Giuseppe qui da solo è buona nulla se non fosse per la moglie le sorelle le figlie la casa la comunità si e se non fosse per la comunità frate Giuseppe sarebbe per le strade come ha sempre fatto a evangelizzare un'anima alla volta vi ricordate sorelle? si quando frate Giuseppe andava nelle strade a evangelizzare un'anima alla volta si ho evangelizzato un falegname questa settimana se guardate un falegname sta facendo un lavoretto lì e questo qui non si riuscì a evangelizzarlo finalmente ho visto uno spiraglio salta fuori questo qui per il rotto della cuffia e questo è un evangelico e allora facendo finta di niente qua e là portiamo il discorso un po' sulla Bibbia su Gesù questo e quell'altro insomma questo qua di sua spontanea volontà salta fuori e dice la parola da rapimento po' la pepola e il caccio sui maccaroni subito per te sì mi sono buttato un po' di tosse e dimmi dimmi come lo vedi il tuo rapimento ma sembra che gli ha detto tu lo vedi ha detto un poco si passeremo attraverso la tribolazione ma non tanto solo un pochino l'altro probabilmente che no probabilmente saranno rapiti questa è un'altra interpretazione capito c'è anche questo sì che è un po' così un po' no il rapimento con un po' di tribolazione perché sai adesso non posso più negarlo perché già la tribolazione un po' di tribolazione è cominciata e allora mi sono messo lì che gli ho detto senti facciamo una cosa gli ho raccontato la storia di quella chiesa che sono andato che il pastore quando ha sentito che volevo predicare solo il rapimento mi ha detto alt ma tu che dottrina sei prima o dopo la tribolazione gli ho detto tranquillo tutto pianificato si com'è che fai gli ho detto io adesso porterò delle scritture si le leggo ai fratelli si e poi chiedo loro di decidere se è prima o dopo ah benissimo questo mi sta bene e allora sono andato in chiesa alla fine c'eravate voi no? si si diversi chiesi ho fatto questo ho dato le scritture come faccio la radio A B C D eccetera secondo voi quando era il rapimento prima tutti quanti hanno detto dopo tutti tutti allora gli ho detto adesso facciamo così non voglio ritirare con te che se fregnammi se no magari non mi fai neanche il lavoro voglio rimanere amico con te facciamo così ti do delle scritture alla fine me lo dici tu d'accordo allora gli ho detto carta e penna lui non aveva una carta e penna ha tirato fuori io ecco qua e gli ho fatto sai che abbiamo abbiamo circa sei sei diverse maniere che Gesù ci ha dato di arrivare alla tribolazione il rapimento dopo la tribolazione sei o sette modi si non ci ha dato e allora gli ho fatto la strada di Apocalisse 20 verso 4 e ho detto scrivere Apocalisse 24 scrive cos'è prima la risurrezione o la Apocalisse 24 fino al verso 6 prima la tribolazione o prima la risurrezione e lui ha scritto logico leggi numero uno cosa mettiamo e lui ha detto numero uno mettiamo la la tribolazione e numero due mettiamo la risurrezione bene primo testo 11 4 15 17 leggiamo leggiamo e dice allora qua mettiamo ripetiamo qui cos'è cosa c'è prima qua la risurrezione o il rapimento prima c'è la risurrezione benissimo scrive scrive lui l'ha scritto e dopo cosa c'è e dopo c'è il rapimento scrivi scrivi perché se non lo scrivi ti confondi garantito allora ha scritto numero due rapimento adesso alt è sulla domanda il milione di dollari queste quattro queste quattro insegnamenti biblici sicuri sicuri sì sono sicuro allora adesso mettimili in ordine per cortesia mettimili in cronologia e lui li ha messi in cronologia ed è uno cos'era tribolazione tribolazione due risurrezione e tre rapimento e questo è rimasto cinque minuti è stare fatto non poteva crederlo l'ha costato dire che è così gli è costato proprio non voleva sputtare il rospo e alla fine dice eh sì è così qui non c'è un pizzico di tribolazione no è dopo la tribolazione conferma Matteo 24 29 31 cosa dice qua dopo 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 dice la tribolazione appare Gesù e dice ah era come la prima volta che legge alla Bibbia è tutto inzuppato il cervello inzuppato fradicio di religione capisci il dramma di oggi di certe chiese sono troppo pieni fradici di religione e non la pura purissima limpida acqua disorgente della montagna della parola e basta no c'è la parola cattolica la parola evangelica ma la parola e basta Angela dimmi sì non credi che un altro motivo per il quale i cristiani hanno le idee così diverse tra di loro è perché non tutti hanno ricevuto le stesse rivelazioni per esempio noi abbiamo imparato da grandi predicatori sull'autorità sopra il diavolo sulle guarigioni ma quelli non predicano il tempo della fine perché non hanno questa rivelazione neanche parlano del libro di apocalisse no buttolo via quindi non è che non sono sinceri non è che sono falsi semplicemente non hanno questo messaggio da Gesù non hanno ricevuto questa rivelazione e predicano quello che loro sanno che hanno imparato e tu hai detto nel passato anche riguardo a Paolo e Giovanni gli apostoli nella Bibbia Paolo non ha ricevuto la rivelazione di Giovanni in apocalisse però entrambi sono sinceri serviti di Dio da imparare da loro quindi non siamo tutti uguali semplicemente sì le rivelazioni degli apostoli Giovanni Giacomo Paolo Pietro sono così diverse una dall'altra se tu le vedi sono assolutamente diverse non sono copie non ci sono copiati e quindi come dire io non sono d'accordo con la dottrina di Pietro e guarda Giacomo per esempio fratello di Gesù mezzo fratello lui in una lettera mo-o-o-o-olto abbastanza lungo sì molto legalista però è scritturale e serve è ottima a me mi piace moltissimo la cito sempre Giacomo però apparentemente sembra il contrario del messaggio della grazia di Paolo ma qui casca l'asino se tu studi bene non è mica vero sì sono esattamente Martino Lutero ha preso il libro di Giacomo e l'ha buttato via proprio l'ha tagliato l'ha tagliato della sua Bibbia e l'ha buttato via dice no è troppo legalista qua io credo nella grazia caro caro Martino Lutero fondatore dei protestanti hai sbagliato di grosso hai preso una cantonata l'epistola di Giacomo è un'epistola meravigliosa in ogni parola sì a mano sì quindi ha iniziato sbagliato Martino Lutero va bene poi lì era era contro gli ebrei non poteva vedere gli ebrei è sbagliato anche lì e va bene va bene siamo a posto ci siamo sì posso leggerti un altro messaggio sì perché io direi un commento arrivato da Antonella grazie per i commenti che mandate ogni commento mandagli un bacio Antonella ti voglio bene Antonella di Antonio con la figlia Chiara Antonella sì Antonella e Antonio la mamma di Chiara dice cari fratelli che ha scritto settimana scorsa io non capisco proprio chi vi accusa di forzare ad andare via io posso testimoniare che l'unica pressione che ho sempre avuto da fratello Giuseppe è sempre stata quella di cercare la volontà di Dio per noi e questa ricerca questo sforzo ci ha garantito che abbiamo potuto prepararci per questa quarantena e stiamo imparando a dipendere da questa guida puntuale dello Spirito Santo perché sarà questo che farà la differenza in questo tempo della fine Malachia 3.18 la nostra piccola chiesetta ringrazia con tutto il cuore Gesù per fratello Giuseppe per l'insegnamento di stare sulle ginocchia e sulla parola di Dio Dio vi benedica Antonella grazie Antonella è sempre dolce questa sorella grazie no beh fratelli voi potete testimoniare noi siamo qui per aiutarvi cosa vuoi che mi interessa cosa ci guadagno io se vuoi mettere da parte cibo e l'acqua e il diesel e perché vi amiamo se dovete per qualunque emergenza dovete andare in montagna per esempio andate alla pompa di benzina magari c'è una linea di chilometri e quando arrivate voi la pompa è vuota invece andate in garage avete le vostre belle tanniche che vi siete preparati in tempi quando era facile le tanniche con la data i numeri questa è la più vecchia la meno vecchia la più giovane e usate sempre la più vecchia così che fate una rotazione cosa vuoi che va bene io vi parlo delle esperienze di decine di anni di vita missionaria è importantissimo avere delle piccole emergenze sempre avere quattro soldi di emergenza non sai mai ti serve un dottore un farmacista tintura di odio certo sempre noi preghiamo per la guarigione ma a volte uno non ha la fede va bene dimmi va bene il microfono si si va bene mi fai segnare dal microfono grazie signore quindi Dio vi benedica fratelli chi non vuole preparare niente non preparate niente chi vuole rimanere in città rimanete in città però io non voglio andare davanti a Dio sai come dici leggimi Zecchiele 3 17-19 e poi chiudiamo si poi chiudiamo sabato si uh guarda sono già che ore sono in Italia adesso sono le 6 come le 6 del pomeriggio le 6 sono in Italia allora ecco le 6 sono le sono le sono le 17 17 e 57 minuti e 5 secondi oh molto puntuale eh io sono preciso io spacco io spacco il secondo che sai allora hai trovato quella scrittura Zecchiele 3 17-19 filo d'uomo io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele quando tu udrai dalla mia bocca una parola tu le avvertirai da parte mia quando io dirò l'empio certo morirai se tu non l'avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvarli così la vita quell'empio morirà per la sua iniquità ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano questa è una scrittura un po' generalizzata che non sta morendo nessuno con il coronavirus sono morti parecchie però qui sto parlando un po' in generale chi è il figlio il duomo la sentinella ciascuno chi è Gesù perché Gesù è la sentinella chi è la sentinella lo Spirito Santo la parola però se sei credente hai lo Spirito Santo ti salvezzo sei una sentinella in funzione di Gesù Cristo che è nel tuo cuore quindi sto parlando a te e a me a me e a te la finisci per favore 19 ma se tu avverti l'empio ed egli non si ritira dalla sua impietà e dalla sua via malvagia egli morirà per la sua iniquità ma tu avrai salvato te stesso capito come cosa dice qua dice se tu non avverti l'empio ma può essere la moglie il marito il figlio il padre e l'empio insomma il peccatore quello che sbaglia quello che è fuori binario ora qui può essere un assassino là può essere uno che magari non è capace a cucinare la zuppa avverti ma direi che cucina la zuppa è pericoloso se hai bambino lì vicino può scottarsi avvertimenti grandi avvertimenti piccoli avverti l'empio oppure l'empietà lo sbaglio quello che è va bene quindi cercate di vedere che gli avvertimenti che noi diamo è per amore fratelli io mi sono fatto tanti nemici va bene veramente voi ragazze lo sapete tanti nemici perché dico ma ti fai fatti tuoi ti interessa dell'altra chiesa no però io sento dal signore che devo dare un avvertimento che siamo all'era della udicea le chiese devono uscire andare a evangelizzare poi se mi sbaglio state in chiesa a scaldare panche non evangelizzate ciao e secondo me sbagliate però fate come volete e questo mi ha reso mi ha causato un sacco di nemici pastori chiese chi è questo qua è diventato l'arcivescovo no 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 io sono il piccolo nessuno va bene però però quando ci sono le scritture che dicono così è così e non è cosa io lo devo dire e fino adesso signore sono tanti anni e mi sei benedetto per questo nel nome di Gesù Cristo Amen Amen